Il soccorso ha la priorità su tutto. Stacolando le operazioni di soccorso ovviamente crea nel soccorritore un conflitto interiore. E' una lesione di dignità. Quattomeno senti di non essere compreso dal tuo paese. Quando qualcuno ti rimane in attesa vengono quasi naufragi. Abbiamo avuto problemi di persone traumatizzate. Io sono arrivato a soffrire di attacchi di panico. Avevo incubi la notte. Ci sentiamo catapultati in mare, non ci sentiamo recuperati. Mobbing, bussing, un aiuto, un insistente. Nel trazido, volevo suicidare. Inizialistrazzi. 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 Grazie a tutti